Si terrà domani a Giffoni 6 Casali l'inaugurazione dell'ambulatorio veterinario unico presente nei Picentini, realizzato in via Capo Casale nei locali messi a disposizione dal comune. Alle ore 11.30 il taglio del nastro con la benedizione impartita dal parroco Don Luca Basso. Il nuovo presidio veterinario offrirà la microcippatura gratuita ai cani, la sterilizzazione gratuita a cani e gatti randaggi, oltre che interventi di primo soccorso agli animali feriti. Siamo orgogliosi, sottolinea il sindaco Francesco Munno, di avere sul nostro territorio l'unico presidio veterinario del comprensorio e di poter garantire ai nostri amici a quattro zampe l'assistenza necessaria.